Si avvicina la riapertura del ponte di Traona. Per questa settimana è prevista la sostanziale fine dei lavori di consolidamento dell'opera pubblica sulla data Traona e Coggio Valtellino. Ad annunciarlo il Presidente della provincia di Sondio Elio Moretti, che già lo scorso mese di aprile, aveva assicurato che dopo aver risolto le problematiche tecniche alle opere di fondazione, che hanno causato ritardi, i lavori si sarebbero conclusi entro luglio. Da allora, con il programma che la provincia aveva comunicato anche ai sette sindaci di Traona, Mello, Civo, Dazio, Cercino, Cino e Mantello, che si erano recati a Palazzo Muzzo per aver notizie e rassicurazioni sull'andamento dei lavori, sottolinea Elio Moretti, è stato rispettato e i lavori sono ormai giunti alla conclusione. Un cantiere complesso che ha presentato più di un imprevisto, si è provveduto dapprima al sollevamento dell'impalcato, che aveva subito un cedimento a causa dei problemi alle fondazioni, ricorda la provincia, poi alla formazione dei nuovi appoggi al rinforzo esterno delle travi e alla ricollocazione dei sottoservizi ospitati sul ponte. In questi giorni sarà ultimata l'impermeabilizzazione dell'impalcato e già questa settimana, o al più tardi la prima di agosto, sarà terminata la nuova pavimentazione. Poi il ponte sarà finalmente riaperto al traffico, annuncia Palazzo Muzzo, a beneficio dei numerosi utenti, soprattutto cittadini e aziende, che per gli spostamenti quotidiani da una sponda all'alta dell'Adda, nell'ultimo anno sono stati costretti ad allungare il proprio percorso. Restituiamo finalmente ai cittadini un'infrastruttura più sicura, commenta il presente alla provincia Egli Umoretti. Le verifiche avevano fatto emergere che la manutenzione strutturale del ponte non era più procrastinabile. Il manufatto risale agli anni Sessanta e non risultava più adeguato ai carichi e ai volumi di traffico di oggi, tant'è che già da anni erano state imposte limitazioni al transito dei mezzi pesanti. Con questo intervento le limitazioni al carico saranno tolte, anche se rimarranno quelle di sagoma a causa della ridotta dimensione alla carreggiata, che imporranno il senso unico alternato per i mezzi pesanti. Anche su questo però i disagi saranno ridotti al minimo, spiega la provincia, grazie all'installazione di semafori intelligenti che faranno scattare il rosso solo al passaggio dei mezzi più ingombranti.